Violazioni sistematiche, non conformità, piani scaduti, documenti sulla sicurezza da riscrivere da capo e lunghissimo l'elenco delle criticità emerse durante ispezioni e valutazioni del Comitato Tecnico Regionale. Tutto ciò emergerebbe dalla documentazione sulla sicurezza dei Laboratori Nazionali di Fisica Nucleare reperita dagli attivisti per la mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso presso i Vigili del Fuoco. Augusto De Sanctis, portavoce del gruppo ambientalista, denuncia apertamente il non rispetto da anni da parte dei Laboratori di Fisica Nucleare della direttiva SEVESO sulla prevenzione degli incidenti rilevanti. In poche parole, 2.300 tonnellate di sostanze pericolose sarebbero stoccate irregolarmente vicino alle captazioni dell'acqua potabile. I Laboratori di Fisica Nucleare sono classificati in pianto a rischio di incidente rilevante perché hanno stoccato nella montagna 2.300 tonnellate di sostanze chimiche pericolose. Non lo potevano fare, peraltro, perché la legge fin dal 1988 vieta lo stoccaggio di sostanze chimiche pericolose vicino alle captazioni degli acquedotti. Questo dato lo scoprite solo ora? Noi abbiamo fatto accesso agli atti, peraltro molto laborioso perché non ci volevano dare le carte, le abbiamo lette e adesso viene fuori che il rapporto di sicurezza non è stato mai approvato, l'ultimo presentato nel 2016 è stato esaminato il 16 gennaio 2018 e i Vigili del Fuoco hanno trovato una serie di carenze tali che deve essere riscritto completamente. E adesso cosa succede? Succede che c'è un'irregolarità che noi ovviamente segnaleremo alla Procura della Repubblica integrando altri esposti che abbiamo fatto anche per ulteriori situazioni che ci sono a nostro avviso. Che cosa chiedete? Chiediamo immediatamente l'allontanamento delle sostanze chimiche pericolose che risolverebbe questo problema di approvare documenti impossibili probabilmente da approvare in quanto la condizione di rischio è talmente alta per la presenza delle captazioni idropotabbie e per la presenza anche di faglie attive nel Gran Sasso e così risolveremo allontanando appunto queste sostanze come prevede la legge. Gli attivisti per la mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso chiedono ancora una volta alla Procura di indagare e alla Regione Abruzzo proprietaria delle captazioni idriche di intimare ai laboratori di fisica nucleare l'allontanamento definitivo delle 2300 tonnellate di sostanze tossiche dal cuore della montagna.